ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono gabriele oggi siamo a borgo ricco vicino a padova siamo qui perché tra poco inizierà l'undicesima star cup in questo bellissimo palazzetto che ne dite andiamo a vederlo insieme grazie 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 a tutti. 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 In terza posizione la coppia formata da Eccaterina Navicova e Alessandro D'Amora con il numero 40 dall'Italia. In seconda posizione troviamo Roberta Cardoni e Domenico Liberti con il numero 28 dall'Italia. Vincolo la professional divisione con il numero 29 dall'Estonia Crisyn Baha e Andres Liv. Grazie a tutti. Ed eccoci, stiamo tornando verso casa nostra. queste due giornate di gara sono finita e lui guida e io sono già qui che edito per voi. quindi se questo video vi è piaciuto e non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati e lasciateci un like. Bye bye, see you on next video. Ciao.